L'ho visto che non c'è il bar... Una bella bubba. Va lei, che sei solo? Ma che stai aspettando? Vi accorto. No, siamo scappati dalla casa. Ma che aspetti, al vecchio? C'è il marmetto, c'è i miei soldi? Vi accorto. Giovanotti! Che ti sei che arriverete? Dica, dica, arriverete... Che? Camminare? Camminare? Ma chi? Allora ti sei deciso, siamo clomp e trotter. Ti fanno girare il mondo. Ammazza che non c'è! Ma guarda questo, ma chissà lo spettacolo, ma guarda l'anima! Pssst! Giovanotti! Ma riechi! Arrivere, ma che ce l'hai con noi? Ma ve ne volete andare? Ma perché se ne dobbiamo andare? Ah! Meglio! Sbammare! Arrivere, ma se gliel'hai fatta, perché non se ne va a lei? E' una bella, fammi tu passi che stiamo... Oh! Giovanotti! Ve ne dovete andare! Ma perché? Ma se vedi che andatevene andatevene, no? Ma perché se ne dobbiamo andare? E' bisogno che andatevene! E non so... Aspetta... remaining... Malci! Te due! Grazie a tutti.